e boom è sparata una croce rossa ehi ma seriamente lo dico seriamente 53 53 si sono al cinquantena e anche di più no dipende però perché loro si ricordo che loro si ma non c'è scaglio e neanche meglio e allora si guarda la partita è proprio a bordo no va bene ma è il nemico problema non è altissimo vogliamo vedere benvenuti alla partita di campionato di oggi disputato dai neonati contro i carbonaci con me in regia ci sono l'essandro pugliese, Cora, Manzi e sottoscritto ma per gli amici Manzi Manzi è un assicuratore proprio di quelli doc che ti mancano gli incidenti a forza si formano con un 3-1-3 parte ho sbagliato palla in eunas mi sbaglia completamente la presa della palla e rimane e li perde palla quando ricomincia comunque il nostro modello è sempre quello di di cose i neunas vanno subito l'elena è fuori e vediamo che grandiamo un po' l'immagine così il pubblico può vedere la partita il grego il grego attenzione che passa una bella treccia non tanto splendida e i neonati prendono punto primo punto della partita te la sceglie te la sceglie te la sceglie te la sceglie ah no scusate no cattivo rimbalzo scusate non ho visto l'arbitro vediamo che allora i neunas riattaccano da un altro pannello Emiliano po' a punto Emiliano sta vedendo che sono i cosi i neunas che si battono i no sarebbe solo meglio sponnateli no no è peggio eh sì poi è neunas no però hanno bevuto troppo messa in questa sì anche per me hanno incasso le granbeer sì ma anche per me grandissimi guarda che no dai non vale lo uni tutti va bene non c'è franzi con la cazzo in campo eh ma sai che gli viene scherzando no sai che gli viene scherzando no ecco guarda qua no no ma guarda che comunque si non è franzi che cambia la partita guarda attacca brava değo irgendwie ha vedi 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 Allora dico solo che ti ho registrato No, no! Si perché Banzi parla sempre quando non deve parlare Banzi No, brutto Ma guarda che ce la perdono Fran si incassano e non è più vero Ma non la perdono, è 4-1 Brava Dillo, dillo Stavo guardando Stavo guardando Ragazzi, è emblematica questa cosa No, no, è emblematica Se fa appunto qua, è emblematica C'è solo noi siamo gli sfigati che avrebbero preso No, no, anche il primo tempo lo regalano Si si, il primo tempo si devono rodare Poi dopo vanno Secondo me non prendono due palle Si, ma guarda, guarda la fisicità Di Barga Guarda loro Cioè guarda loro Greco Manu E che cazzo noi vanno O l'è? O l'è? Si! Oh, ci sta però? No, no, se vincono se lo meritano Punti E senza saltare C'è un passivo lì Se ne è a zero Sei, è un ciclo Non è che Sei lì Sei? No, ma adesso cominciano ad andare su Ok, appena prendono le misure Una e tre Ecco, va Hai visto? Vai legno C'è l'ora che ce l'hai Vai legno Vai legno Vai legno Vai legno Vai legno Venga, sono solo i 27 minuti Sì, beh, a loro manca uno franzi Devo dire, però voglio vedere che si tirano anche franzi Stanno Oh Vai che sono nervosi Sì Sì, stanno Sì, stanno Tira nella pacchetta Oh, eccolo Eccolo, eccolo Ci sono fagliati E incominciano ad andare Uno Wow Non ci credo Bravare Sì Vai legno Guardate, va Di quadri a puntezza che è un'altra magica Di quadri a puntezza perché è un'altra magica Non ce la faccio Forse è partita in rivelazione Non voglio dire nulla Vai, vai Vai Torna là No, no No, no Sì Brava È l'ha regalato Un 10 a 1 No, non è regalato Sì, ma è l'ha regalato Ma non è vero Vai se fa un back No C'è il suo Ma era lì, Morgan Era lì C'era la gamba giù La gamba giù Dai, Anas Dai, Anas Ecco, ti pareva Stasica c'è Centro attacco Stasica puoi anche dirlo Franca prima di me mi sono andato a Marte Dico Oh Luca ma non fa il culo Non so che ci fiscale Ah ecco Quindi tranquilli qua Le paraggi sono all'ordine del giorno Ecco dai Oh Morgan dove si è? No, è regalato Dai Galato Galato Dai, dai, dai Mike questo è oro Direbbe Fergie Un 10 a 3 Non ho messo un protaggio come questo Perdiamo tempo vai Mi piace questa cosa Ehi, basso No, no Non basta Vediamo se Ma l'indipesa No Vediamo Cioè guarda che ci sarebbe solo un favorone Che classe Si, Morgan o non so Quello di diretto Lì, da Si, si, si Morgan Eh cos'è? Ma un tiro Vai dai che se mette giù questo è ottimo Con calma Con le sacco di sono passato un po' più Eh sì Con le mani Tira Ma percò? No, era il terzo pannello Era il terzo attacco Adesso Ragazzi scusate per l'intera È una bolgia È una bolgia il concordio Emi Emi Fa punto Concordi Arena Io parlo a quel punto non l'ho inquadrato Mi dispiace Io parlo a quel punto non l'ho inquadrato Ragazzi Sicuro che non perdiamo con di me Se giochiamo di merda Si, ma come se giochiamo di merda Le perdiamo con tutte Tira Puffo, una run della tele è tua È fuori Eeeeeee! Mamma mia! No, buffo! Più nove rega! Un capitano! Un capitano! Viva! Era fuori! No? Eccolo! Eccolo! L'uomo che cambia la partenza! Sto tagliato! No! Ero Morgan! E' nato lontanissimo! E' nato troppo lontanissimo! Vabbè ma devi farlo capire! Guarda che è meglio così! L'importante... L'importante è che comunque... Sperino... No, l'importante è che non si diventino così come è successo con noi! No! Vala! 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 E' tutto in discussione! E' giù! Vala! 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 Guarda delle sorpresi, giusto? Questa qua è la partenza... Vala! 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 Francesco, però comunque... Vala! Vala! giocavano a terza con noi era... è... è... abbiamo detto allora poi.... nooo dai 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 io non stai crescendo... veramente eh? cioè... ero sempre a casa da lavorare io e gli sto facendo quello che vai e gli sto facendo quello che vai va a me se il Sky Sports 24 va beh... chi sarà? Mary, ma sì dai almeno ti sei divertito Sì, sì No, no, no Vai, chi fate? Ecco, siamo fregati Ma per cui c'è? Devo messaggiare più di ottenere la cosa Con quello mi dà scrivergli qualcosa Non mi fa voglia Allora le riscrivo dopo Ti dico niente Mi ho guardato Ti dico niente Perché ti ha guardato? Un punto mostruoso su questa difesa La metta giù La metta giù Per i più sette ospiti A 45 secondi alla fine Del primo tempo Il primo lo regalano sempre Io ve lo ho detto Tutto oggi che ve lo dico Questa è una rangelata del corpo È fuori Vai dai 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 Nicola Ma se fanno un miracolo Ma anche i più bravi possono sbagliare Ma un 2-2-3 C'è un solito a fare io Vai 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 Libio è forte Libio Basta che si apra un attimino ci hanno fatto tutti cosi nooo no se faccio questo mi fanno il numero nooo vabbè raga ha lasciato giù banni di pane banni di pasta frolla che sto registrando comunque e tua cognata banni di pasta frolla io ne sono cadute 3 di fila povera non per altro beh ma lo sai che adesso quando... beh non ti volevo dire ma questo video ce lo guarda anche lei il problema è che ci si pensiamo ma per i figli di merda ci credo BAM allora c'è l'elen e morgan giù ah è entrato il fenomeno 72 ma che è sto quale? non lo so no io non l'ho mai visto eeeh eh è il tunnel chiudileee eh si vabbè ma quanti è il bittimiccio che price però non lo potevo farlo ragazzi Pergi, per questo è un vizio Sonora, cazzo, sincero Tira Buon ribaltamento Wow Aia Attendo che va munito Sonora, cazzo, sincero Ha regalato? Ha regalato Franz un po' ha regalato Si, 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 è un po' girato Va bene, perché perde con i piccoli Si Vai Lore, tranqui Vai Lore Vai Lore Non è che lo mette giù No, non devi tirare Oh merda Manu le prende quelle Go Vai Puffo Ragazzo, avrò finiscerato un mal di gore tremendo Tu Io no invece che dall'inizio Ah io ho regalato Regalato Meno male Meno male che l'arbitro Non c'è Non c'è Regalato, regalato, regalato Non c'è accocciarsi No mamma Chi è giù da qua? Ah, è merda Eh... Ragazzo non da bene Ragazzo non da bene Prendono le cannonate Aaaaaaaaaaa Aaaaaaaa Calvolo mi ho tolto le sorghi Adesso è finita la cosa Adesso avessi li prenderò Aaaaaaa L'intirare? Siiii Si raga Mamma mia E' 22 però E' 22? Ah ok Calma Ale, calma Eh non l'aveva segnato Oh però questi ribaltamenti Mi hanno un po' anche stati le palle Franza ha una calma olimpica Un certo lì è sempre Mamma mia Mamma mia Non farei la banda Ha perso una scarpa Però Neonanz non moro Niente noto Anche perchè comunque è il secondo tempo Passivo Nel numero 82 Niente Manu Puppo Che passa? All'altro Puppo Che ritorna l'altro Puppo? Non dormiamo eh E' sempre quello Non dormiamo No è bravo Non dormiamo E' sempre quello Adesso è per tutti Sì ma è per tutti Ti allarghi no? Comunque è già il terzo o quarto punto che ho fatto di quello Ma lui fa solo quei punti Anche a me mi ha fregato Suo che non me ne rendo conto Mamma mia Sono svegliati eh? Ah sì Eh un po' Torni Ediziale Sì infatti per me Tiltono Ma è la prima Penga Perchè ha levato Buffo? Perchè non ha Non stacca nella testa Per me non la pista Non ha testa No no Sì è sempre Sììììììggi E chi metti Però Ha messo Lelena centrale Centrato E coraggio No Coraggio Prima no 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 Non dico Coraggio Lelena Coraggio Non coraggio La passa, la passa, la passa No, ha regalato questo Bravo Franz È il fair play, il signor fair play Il signor Chuk Il signor Chuk È lui quello che è Il signor Chuk, fair play Oh, basta ribaltare, non riesco a seguire Chi guarderà sto video, avrà un po' Sì No Mamma mia che partita, sembrano, è infinita sta partita Beh, quella che con Empoli era infinita, tu non l'hai giocata quella cosa Cioè, ma se prima di farmi del male non riuscivo più Pensavo che fosse passi vent'anni Oh, cazzo Oh, scusi Un guolina Regalato Cosa Era dentro Era fuori Era dentro Quello è un signor Beck Ma io l'ho visto dentro Era un Beck molto tirato perché era più linea e va più fuori Aiaiai Aiaiai Che brutta questa C'ho anche l'immagine che poi si può raggiungarla dopo Tira, tira Sì, ma stessa e gli dici così li agiti in trucco Non agitatevi, siete solo bene a uno Ragazzi, niente esotti che ha la squadra, eh Perché sta facendo meglio di noi Sì, sì Vai, Loren Difesa, adesso crederci tutti nelle posizioni Traduziamo alla pagina 777 di Mediabino Brava Chiara Per favore, chiamatela Ale, chiamatela Luca Sì, si chiama È ovvio È difficile C'è il cretino forte Ragazzi, questo è un video che... Ma non tirare il primo Che tiri sul primo Ale, ma se noi... Se tassi e tiri sul primo li han presi Mi le tira, mi le tira Gli è tirato sempre così Mi le prende, mi le prende Il mio amore che sta venendo dalla faccia della terra No, perché è una bella partita Non gliela puoi eliminare Guardi il caporeo che taglio nell'audio Guardi che sei in palla te Sto vai Aiaiai Guarda, eh In caso diciamo che stavano chiedendo su Ronaldo Perché l'hanno detto Ma questa è un petto di 12 minuti 20 minuti però tutte Vabbè, dai C'è ancora una carta puntata In brobo Ci dovrebbe far preoccupare a noi comunque Che cosa? No ragazzi, basta non filmo più io Allora... Beh, abbiamo giocato molto male Sì Giocavamo Adesso è un po' in media Adesso è un po' in Beh, è anche lì Non c'è nessuno, figlio Oh, io non sto filmando C'è poco da fare Oh E' un cesso Oh, ma c'è l'Ire No, vieni qua, Ire Vieni qua Ma l'Ire? No, c'era l'Ire Ire 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 E' chiaramente un bel punto Che brutto Cioè che battuti di fino Ma lo spiritoso, capito? Sì Ma c'era, vabbè Tutta la bottiglia Persone e cose fatte sono puramente casuali Non si può perdere Dai Ale Non si può, libio Tira Sì Sì No, vedi perché Oh, cazzo Sì 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 Ma fanno Ma guarda Ma perché sei in grado? E' giù Sì 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 Ragazzi, ma se andiamo a noi Alessio All'allenare No, non è passi No, no È cattivo È cattivo Ma ancora l'ultimo avuto il risultato Adesso mi prende la statenza Sì 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 Una volta No, è concordi a Arena No, spedio Sì No No Bala 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 Ragazzi, ogni commento di questa partita E' soltanto per l'emozione Quindi... Ma noi siamo ospiti giusto Sì 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 Ok Regalato 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 Ragazzi Sì 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 Oh Oh Non ci prego Dai Non ci prego Oh, buffo centrale Conosci? Oh 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 Mamma mia Però ho perso tempo Furbastramente Toccava Furbastramente 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 Vabbè cosa ho preso lì? Con furbizia Con furbizia Perché non c'era così che ne contiene bene? Sì, grande, belle Allora Fai disegnare Sì 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 Non ci ricorda Arena Non Take 1 Take 1 elections 2! 3! Sardaz, dimmi lei Chiara ci prepariamo a vivere gli ultimi 12 minuti di una battaglia due squadre che giocano punto a punto siamo su 31-33 per la squadra qui dal Concordia Stadium di Concordia Sanità è ripartito il terzo tempo ogni volta c'è un nome diverso si voglio fare tipo con noi nooo allora qui questo qua deve cancellarsi l'audio Concordia male oh dai oh uno di brava chiaro dai te la sto registrando ma come hai detto ecco l'oli oh dai l'are che sei lì l'are l'are dai abbiamo cambiato il segnale è entrato anche il segnale Sì il netto lo stimo lo stimo anzi forse io sono un netto lo stimo comunque sono un netto non so siamo visti nella telecamera è sempre quello tira oh no tirare è centrale tira tenta tenta entrare in calcio dalla grazzuris ti ho finito dai divertito stai lì stai lì eee Liotto BANANAS il sole Vai vai corri corri Ho fatto il 30 con un altro giusto 36 peri Vai 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 ragazzi Bene o no? È il 37 la sua, aggiorniamo sto punteggio È il 37 La gente che è 37 E adesso ti dico più che 30 No, 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 mandiamo a portare Bravo Manu 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 Ma perché ce l'hanno ridato? Perché Fran In questa partita chi deve guardarci il video, starà male? Per me è l'ultima partita, chi è entrato, dimmi chi sta per sinistra, ok, scusate, no, 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 Ok, ma sono tutti poi altri modi, che è vero C'è Dai, te pendant, non sai, tu sono più grande E mi stai filmando? No, stai filmando, stai filmando Ho capito che me la riguardo sta bato Nooo! Dai Chiara! Non dico io! Vai Ale! Vai raga! La passa! Grazie tira! Grazie! Ma quando mi devi chiedere un favore e te lo rispondo ... 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